È tutto intero, oggi invece che droga sono droghe, sono dipendenze, perché sembrava che fosse sparita l'eroina, invece è ricomparsa. La coca ormai... Era la droga di ricchi, ora di tutti. Di tutti, anche perché costa poco. Ci sono applicate purtroppo alla droga le anfetamine, soprattutto, tra virgolette, poi l'abbiamo chiamato crack, che è questa miscela tra, credo che sia, tra cocaina e miscele. Adesso abbiamo deciso di affrontare gli adolescenti, quindi stiamo cambiando le comunità, non solo le metodologie, perché abbiamo affrontato il tema dell'adolescenza. Cioè, vogliamo arrivare prima, perché oggi, a 12 anni, ci capitano già ragazze, ragazze alcoliste. Dico ragazze o no perché sono antifeminista, perché l'alcol è entrato nel mondo femminile in maniera bestiale. E nel mondo adolescenziale, quindi se tu metti insieme, gioco, alcol e anfetamine, dico già l'adolescente, poi i genitori che non capiscono, la scuola, gli insegnanti che non capiscono niente, mi scuso con gli insegnanti, dobbiamo cambiare radicalmente la scuola media e inferiore, dobbiamo cambiarla radicalmente. Droghe libere, sì o no? No, no, no. Ok. Qual è il rapporto? Il rapporto libero è neanche il fumo, cioè la sigaretta. Io sono un bestialito. Va bene, che la sigaretta, che il fumo sia ancora così.